Giorno 3, qui alla Gibraltar Race, resteremo ancora in Bologna per oggi, qui con me Roberto, alla sua prima partecipazione. Perché sei qui e quali sono le emozioni? Sono qui per sfidare sicuramente me stesso, visto il trascorso con gli Alps Turistrofi e le emozioni sono pazzesche, non avevo mai provato nulla di simile, molto competitiva, bellissimo l'ambiente, i piloti, si creano amicizie, legami, veramente è un'esperienza bene, mi sto divertendo tantissimo. Bene, in bocca al lupo per oggi, avanti tutta. Giorno 3 Giorno 3 Giorno 3 Giorno 4 chilometro 200 di questa giornata tre molto diversa dai primi due con spazi molto più aperti e tanto divertimento ancora tanta sabbia ora altri 200 chilometri passa per giungere al nuovo bivacco avanti a Giorno 3 concluso con più di 400 km nella zona dei laghi della Polonia. I paesaggi sono cambiati e uno spettacolo. Assolutamente sì. Finalmente un po' di sole, terzo giorno fantastico, posti bellissimi. Devo dire che questa Gibraltar si sta confermando veramente bellissima. Fortunatamente il sole ci ha scaldato un pochettino. Bene, grazie ancora. Grazie Tiziano, sempre un piacere. In bocca al lupo per il giorno 4. Ci vediamo in pista. Oh, andiamo a destra o andiamo a sinistra? Che cazzo? Che te pozzino qui là? Oh, perché stai in speciale? Perdi tutto sto tempo? Eh? Vabbè, niente. Oh, mi mangio qualcosa di un tanto, eh? Ma che te stai a guardare Instagram? Ma te svegli? Niente, oh. C'è un cazzo di fare. Adesso tanto ti pigliano quelle che arrivano su di lì. Vedrai, eh? Che se fermano, che te chiedono, eh? Te chiederanno. Do stai a andare? Vai a destra o vai a sinistra? Eh, mo non lo so. Eh, non lo so. Manco lo so io. Guarda, faccio anche lì quadratura in diagonale. Guarda che bello. Ah, come se sta bene così. Mi sono sdraiato. Oh, oh, oh. A destra. A destra. No, eh, eh. Ah, vedi, mo? Che hai capito che devi tornare su? Ah, là. Tra-ta-ta-ta-ta-ta. Ah, eccolo. Eccolo. Dai, ragazzi. Dai. E mo siamo ritornati, eh? Eh, eh, sì, siamo ritornati. Niente, mo. Non si capisce se si va di qua o di là. Che famo? Che famo? Che famo? Uh, uh, abbiamo capito? Mo abbiamo capito, abbiamo capito. Dove se va? Niente. Se scende dalla moto. Adesso cade. Maronna. Aia. Bella lì. Buon. Che famo? Tornamo? Che famo? Connessido di Natale. Allora... Grazie a tutti.